Il comune di Roseto è il secondo in Abruzzo che ha registrato dati record di presenze turistiche dopo Vasto. Lo hanno ribadito durante una conferenza stampa il sindaco Ennio Pavone e il consigliere delegato Antonio Norante. Abbiamo dei dati positivi per quest'anno ma era evidente nel senso che abbiamo avuto subito la percezione che era un'estate, una stagione molto importante dal punto di vista turistico. Le presenze erano evidenti, il clima ha aiutato perché sono stati tre mesi di bel tempo e poi una serie di eventi che questa amministrazione ha organizzato durante tutto l'arco della stagione che ha attirato l'attenzione di tanti turisti. Quindi abbiamo dei dati molto positivi, un incremento medio di oltre il 15% cosa non di poco conto. Di questo siamo soddisfatti ovviamente come sindaco. Pavone vuole valorizzare la stagione turistica? L'allungamento, l'allungare la stagione. Allungarla significa farla iniziare prima e farla terminare dopo. Questo è compito anche di un lavoro che si sta facendo, che il consigliere delegato, l'amministrazione comunale sta facendo anche con le organizzazioni, delle associazioni, degli albergatori, dei balneatori e dei commercianti affinché si apra prima possibile le strutture e si chiudono il più tardi possibile. Diversi gli appuntamenti previsti nei prossimi giorni per valorizzare il turismo. L'8 di questo mese, l'8 ottobre a Rimini, con il TTIG, incontri della più grande fiera turistica italiana. Si parla di circa quest'anno oltre 60.000 operatori, quindi noi avremo uno spazio nello stand della regione Abruzzo. Subito dopo siamo alla Barcolana di Trieste, la più grande gara velica del mondo, con 700.000 visitatori, sempre nello stand del villaggio Abruzzo che la regione ha organizzato. 13.14 siamo a Milano, a Casa Abruzzo, all'Expo, per due giorni, in cui presenteremo anche in anteprima il portale web del sito turistico, che non è solo un sito del comune di Roseto. Grazie a tutti.